Esce domani in libreria Il Giudice Nero di Elsa Flacco, edito da Divergenze nella collana del teatro. Con la sua ultima opera letteraria, la scrittrice abruzzese delinea la figura di Guido Cristini, originario di Guardia Grele, Il Giudice Nero contrapposto all'anarchico sardo Michele Schirru, con un salto temporale che riporta il lettore al 1931, rendendolo partecipe di uno dei processi del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Il Giudice Nero è un testo teatrale, edito da Divergenze, è un atto unico diviso in sette scene, e racconta il processo che nel 1931 portò la condanna a morte dell'anarchico sardo Michele Schirru, reo di aver tentato di uccidere Mussolini. Il giudice del titolo è Guido Cristini di Guardia Grele, e l'idea di scrivere questo libro nasce nel 2018, quando il giornalista Pablo Dellosa, autore di una monografia su Guido Cristini, presidente del Tribunale Speciale, venne a presentare il suo libro a Guardia Grele, e l'allora sindaco Simone Dal Pozzo mi chiese di ricostruire in un testo teatrale uno dei processi del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato durante la presidenza Cristini. La scelta è caduta sul processo Schirru, perché è particolarmente emblematico, degli eccessi a cui può portare un Tribunale Speciale che si basa sul codice militare di guerra, che permetteva che anzi reintrodusse la condanna a morte, la pena di morte, per chi avesse attentato alla vita dei reali o a quella ovviamente del capo del governo. Michele Schirru fu arrestato prima di poter porre in atto un solo tentativo di uccidere Mussolini, quindi venne arrestato soltanto per l'intenzione di compiere un attentato che poi mai si verificò. Ma dall'alto giunse a Cristini la volontà e l'ordine di condannare a morte Michele Schirru. In questo testo si fronteggiano i due protagonisti, il giudice e l'anarchico, e una serie di figure di contorno che, seppure secondarie, sono anche essenziali per lo svolgimento del dramma. Il libro è arricchito da una postfazione di Pier Giorgio della Pelle dal titolo L'anarchismo nell'Italia fascista. Questo testo teatrale verrà presto anche portato sulle scene, ma di più non vorrei dirvi.